non penso riuscirò a mangiarla tutta perché è veramente tanta questa pasta sono i bucatini, per chi non sapesse che pasta è, scemo io e dopo questo scherzino praticamente sono degli mega spaghetti con in mezzo il piccolo forellino oggi volevo anche un po' chiacchierare con voi e non ho scottesco quindi ho tutta la bocca sporca e niente era tantissimo che non facevo un hitting sound proprio tanto amo questo tipo di pasta sia la pasta in sé sia il sughetto che fanno i pomodorini è pazzesco ho messo solo un po' di sale, olio e pepe di solito preferisco la pasta integrale proprio mi piace di più però i bucatini sono fatti così ed è una pasta mi piace molto quindi soprattutto se insomma ci si aggiunge mangiare insomma si fa la pasta amatriciana che è divina io spero vivamente che la scritta all'inizio del video abbia fatto capire che questo è un video fino in cui si sente mangiare perché mi ritrovo sempre sotto ogni video di hitting e io intanto non capisco il... mi ritrovo comunque tantissimi commenti che ho scritto tipo che schifo si sente un uomo di tech mastichi mentre grazie cosa ti aspettavi di sentire scusa in un video chiamato hitting sound in cui c'è le immagini in copertina che ti posi e quindi non le capisco queste cose veramente e anche io sono una fan di hitting sound sia per il suono sia perché mi fanno venire una fame assurda però voglio dire non è che vado a criticarli cioè non è che li apro e vado a dire che schifo si sente e che te che mangi no, cioè, perché? ecco, apri un video di gaming e commentare che palle sti video non sopporto i video di gaming ascolta ma perché l'hai aperto? cioè, sei stupido a te, non è un problema mio addirittura, e questo fa di te questo è il mio secondo video di hitting sound comunque mangiavo Crispy McBacon del McDonald's è stato segnalato talmente tante volte che è vietato in minore di 18 anni c'è un video in cui mangio un hamburger è una cosa che io veramente non capisco che poi può farti schifo ma segnalarlo per cosa? contenuti di che cosa? la gente non mangia? cioè, come... non so la gente non può mangiare al ristorante perché è un atto assurdo in certe cose proprio comunque ero indecisissima se mangiare la pasta o se mangiare il pollo fritto il prossimo mi sa che sarà il pollo fritto però ho deciso anche di mangiare la pasta perché non ho mai mangiato un piatto vegetariano intanto uso il canale quindi volevo anche dare la possibilità per chi proprio non sopporta vedere mangiare comunque il pollo queste cose qui di poter vedere un video di hitting senza senza raggiungere la sensibilità di nessuno ecco questa frase non aveva senso non aveva grammaticamente senso però ho fatto anche un sondaggio su Instagram mi aveva vinto il pollo fritto però poi meno toglie di pollo però so il prossimo sarà il pollo tra parentesi penso che lo girano proprio domani quindi vedete sempre queste unghie perché i miei sono via e approfitto sempre del fatto che i miei sono via per girare dei video di hitting perché sennò poi è complicato girarli è sempre un po' complicato perché mia madre è pomeriggio a casa quindi non posso girarli neanche 10 dopo pranzo così e e non posso mangiare tipo le 10 del mattino quindi è un po' complicata la cosa in realtà a casa avrei anche degli involtini primavera ci rifletterò ci rifletterò oppure se il pollo ma non fritto tipo cosce di pollo sono aromatizzate c'è un posto dove c'è la casa che ne va alla fabbrica buonissima non è uno scotte scusate comincia ad essere un po' pieno in realtà la pasta non era tantissima saranno stati po' secondo me 80 grammi però saranno stati 80 grammi però il punto è che è molto spesso questa pasta ma top che buona la pasta la pasta non mi va bene quindi la lascio al cane però prendo i pomodorini con il pane sono buonissimi e poi ha un solo croccantissimo questo pane è passato nel polnetto che buonissima Sì, non è vero. no in generale io comunque consiglio di vedere sempre questi video mentre si mangia se no cioè viene una fame anche se si ha appena mangiato viene una fame no Sì. non mi sto specchiando però non posso immaginarmi quanto io sia un po' motorata non sono una bocciona adesso un pochino di cocco l'abbiamo aperto ieri non lo mangio tutto tantissimo l'abbiamo aperto ieri e ho fatto l'errore di abbinarci la cioccolata lei sembrava di mangiare un bounty ma è una cosa è una cosa ragazzi so che il cocco però è il miembro la cosa tipo è il frutto più grasso che ci sia però piace che se ne frega non lo mangio tutti i giorni io sono già una persona che mastica molto pure il cocco ma stagio santi sui non penso di aver mai visto i liti in sound abbinati ed i visual trick ok come vedete io avevo appoggiato tipo un tagliere di legno sopra alla scatola del Blue Yeti grazie per aver guardato questo video e vi mando un bacione vi auguro una buonanotte, una buona giornata buonanotte, 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 buonanotte buonanotte, buonanotte, buonanotte ci vediamo al prossimo video, un bacione che ti spera grazie per aver guardato il video